Questo è lo stadio del centenario da dentro, come vedete è tutto chiuso Per il Papa 4 gatti, per l'Uruguay 1 gatto Adesso andiamo a vedere lo stadio, lo vedrò per la prima volta, farò questo tragitto per la prima volta C'è proprio una luce spettacolata e devo pulire pure l'obiettivo della telecamera Ammazza che stanno appassando A me piace più questo di quello del Voga perché è gigantesco questo, incredibile E si vede pure bene Bellissimo Grazie